Buongiorno, siamo qui con Gentile, migliore in campo nella partita tra New Generation e Kids, terminata 5-1 per i New Generation. Gentile ha portato il capitano e la squadra, vediamo, ha portato la squadra alla vittoria con una bella tripletta. Tra l'altro c'è da sottolineare che la squadra è partita in svantaggio, i Kids subito all'inizio hanno portato il risultato sull'1-0, però poi un grande Gentile ha portato la nuova squadra alla vittoria. Allora, un commento a caldo, Gentile? È stata una partita molto combattuta, io ero all'esordio sagionale in questo torneo, all'inizio siamo partiti meglio, però siamo stati sfortunati che abbiamo preso un gol, anzi sono stati loro molto fortunati su un rimpallo e loro sono passati in vantaggio. Noi siamo stati bravi a recuperare l'1-1 sullo scadere nel primo tempo e poi fino alla fine ci abbiamo provato e ci va bene. C'è da dire che stavamo in parità fino a un minuto alla fine e poi... Da lì è venuta proprio la goleata. Va bene, senti, con i nuovi compagni di squadra com'è che ti trovi? Va bene, i nuovi compagni di squadra ci sono tanto due che mi trovo abbastanza bene, gli altri siamo organico... Lui è uno dei... questo è il portiere, con il Ringo come diciamo? Gennaro. Cognome? Runga, siamo cresciuti. Ah, ecco, va bene, va bene. Nuovo amico di squadra... Senti, mi vuoi dedicare i gol a qualcuno o... Li dedico a Miriam. Chi è Miriam? La mia finanziata. Ah, ok, va bene, va bene. Allora ringraziamo Gentile e New Generation, ci vediamo alla prossima. Sì, si forza New Generation.